Copertina Lifestyle mi invita ad un evento eccezionale, al Teatro alla Scala, per la serata inaugurale della stagione di opera e belletto. Un lungo speciale in due puntate, sulla prima alla Scala 2011. In scena Don Giovanni di Mozart, diretto dal maestro Daniel Barenboim. Un lungo racconto, con i momenti più significativi di quest'opera mozartiana, ispirata al mito di Don Giovanni. Il seduttore, il cui nome è diventato nel tempo vero sinonimo di Tom Bell the Fam. Tante curiosità, tante immagini, tante notizie inedite sugli ospiti della prima, con la presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente di Consiglio Mario Monti, di alcuni ministri e un pubblico VIP italiano e internazionale. È un racconto esclusivo, con tante immagini e interviste alla cena ufficiale del Teatro alla Scala, ambientata alla Società del Giardino, con la presenza del Premier e dei protagonisti dell'opera Don Giovanni.